sta meglio? c'è un uccetto rosso la mia eh che bene, una... una scherpa di un colore e una di un altro che bene e chi è che ti riconosce più? un'altra versione chi ti sta aiutando? domani vanno a portare domani vai a Criotto e ti conoscono tutti ecco, perfetto è che non ti dipingi i capelli di biondo